«Piper?». Trovare il posto fu facile. Persi li condusse proprio lì, su un tratto abbandonato, sopra un colle che si affacciava sul foro diroccato. Anche entrare fu semplice. La spada d'oro di Jason tagliò il lucchetto e il cancello si aprì cigolando. Nessun mortale li notò. Non scattò nessun allarme. Una scala a chiocciola in pietra scendeva nell'oscurità. «Vado io per primo», propose il figlio di Giove. «No!», gridò Piper. «I due ragazzi si girarono verso di lei». «Che c'è?», domandò Jason. «L'immagine sul pugnale. L'avevi già vista, vero?». Piper annui gli occhi che le pungevano. «Non sapevo come dirvelo. Ho visto la stanza là sotto riempirsi d'acqua. Ho visto noi tre che affogavamo». Jason e Persi aggrottarono la fronte. «Io non posso affogare», disse il figlio di Poseidone. Ma c'era un'ombra di dubbio nella sua voce. «Forse il futuro è cambiato», ipotizzò Jason. «Nell'immagine che ci hai mostrato adesso, l'acqua non c'era». Piper sperò che avesse ragione lui, ma sospettava che non avrebbero avuto così tanta fortuna. «Dò un'occhiata io per primo», propose Persi. «Torno subito. Prima che qualcuno potesse controbattere, era già sparito lungo le scale». Mentre aspettavano il suo ritorno, Piper contò in silenzio. Arrivata intorno a 35, sentì i passi di Persi, che ricomparve in cima alle scale con un'aria più perplessa che sollevata. «La buona notizia è che l'acqua non c'è», annunciò. «Quella cattiva è che non ho visto nessuna uscita». «E poi… la notizia strana… beh, venite a vedere di persona». Scesero con cautela quelle scale simili a un angusto cavatappi in muratura. Persi davanti, sguainando vortice. Lo seguiva Piper e Jason chiudeva la fila, a coprire loro le spalle. Anche se Persi aveva dato il via libera, Piper continuava a tenere gli occhi bene aperti alla ricerca di tranelli. A ogni giro di scale si aspettava un agguato. Non si era portata nessuna arma, solo la cornucopia su una cinghia di cuoio sopra la spalla. Se le cose fossero andate male, le spade dei ragazzi non avrebbero risolto, granché, in uno spazio così ristretto. «E invece lei? Magari avrebbe potuto uccidere gli eventuali nemici scagliando come proiettili prosciutti affumicati», ci disse. Mentre scendevano, notò dei vecchi graffitti incisi sulle pietre. Numeri romani, nomi e frasi in italiano. Significava che là sotto c'erano state altre persone ben dopo la fine dell'impero romano, ma non ne fu rassicurata. Se laggiù c'erano dei mostri, avrebbero ignorato i mortali, in attesa dell'arrivo di qualche semidio carino e succulento. Finalmente giunsero in fondo alle scale. Persi si girò. «Attenzione all'ultimo gradino!» Saltò sul pavimento della sala cilindrica, che era un metro e mezzo più basso del puzzo delle scale. Per quale motivo qualcuno aveva progettato delle scale del genere? Piper non ne aveva idea. Forse la sala e le scale erano state costruite in periodi diversi. Aveva una gran voglia di voltare i tacchi e andarsene, ma non poteva farlo con Jason dietro di lei e non poteva lasciare Persi laggiù da solo. Scese e Jason la seguì. La stanza era proprio come lei l'aveva vista sulla lama di Catoptris, a parte il fatto che non c'era acqua. Un tempo le pareti curve erano decorate di affreschi, che ormai erano diventati color guscio d'uovo, screziato da qualche macchia. Il soffitto a volta era alto una quindicina di metri. Quasi sul fondo della sala, davanti alle scale, erano state ricavate nove nicchie lungo la parete. Ciascuna si trovava a circa un metro e mezzo dal pavimento, ed era abbastanza grande da contenere una statua a dimensioni naturali, anche se erano tutte vuote. L'aria era fredda e secca. Come aveva detto Persi, non c'era nessun'altra uscita. Questa è la parte strana. Il figlio di Poseidone si spostò al centro della stanza. Guardate, una luce verde-blu si diffuse sulle pareti. Sembrava che non ci fosse alcuna sorgente di luce, tranne le spade di Persi e Jason. Piper udì il rumore di una fontana, ma l'acqua non c'era. «Sentite il profumo dell'oceano?» domandò Persi. Piper all'inizio non lo aveva notato. Era accanto a Persi e lui sapeva sempre di mare. Ma aveva ragione lui. Il profumo di acqua salmastra e di tempesta stava diventando più intenso, come se si stesse avvicinando un temporale estivo. «Un'illusione?» domandò la figlia di Afrodite. All'improvviso le prese una strana sete. «Non lo so», rispose Persi. «Ho come la sensazione che ci debba essere dell'acqua, tanta acqua. Ma non ce n'è. Non sono mai stato in un posto come questo». Jason si spostò verso la fila di nicchie. Toccò il fondo di quella più vicina, che era proprio all'altezza dei suoi occhi. «Ci sono delle conchiglie incastonate nella pietra. Questo è un ninfeo». La bocca di Piper diventava sempre più secca. «Un cosa?» «È un santuario delle ninfe», spiegò Jason. «Ne abbiamo uno al Campo Giove, sulla collina dei Templi». Piper passò una mano sul fondo di un'altra nicchia. Jason aveva ragione. La superficie era piena di cipree, strombi e canestrelli. Le conchiglie sembravano danzare nella luce pallida della sala. Erano geli del tatto. Piper aveva sempre pensato alle ninfe come spiriti cordiali, creature sciocche, civettuole e in genere innocue. Andavano d'accordo con i figli di Afrodite. Adoravano condividere pettegolezzi e consigli di bellezza. Quel posto, però, non assomigliava al laghetto delle canoe al Campo Mezzosangue, né ai ruscelli dei boschi dove di norma lei incontrava le ninfe. Quel posto sembrava innaturale, ostile e fin troppo asciutto. Jason arretrò di un passo ed esaminò la fila di nicchie. Santuari come questo si trovavano ovunque nell'antica Roma. I ricchi li costruivano fuori dalle loro ville per onorare le ninfe e assicurarsi che l'acqua della zona fosse sempre fresca. Alcuni altari erano costruiti intorno a sorgenti naturali, ma la maggior parte erano artificiali. Per cui nessuna vera ninfa vissuto qui? domandò Piper, speranzosa. Non è detto, rispose Jason. Il luogo in cui ci troviamo adesso doveva essere una piscina con una fontana. Spesso, se il ninfeo apparteneva a un semidio o a una semidea, loro invitavano le ninfe a vivere lì. Se gli spiriti vi andavano ad abitare, era ritenuto un segno di buona sorte. Per il proprietario, concluse Percy, ma avrebbe anche legato le ninfe alla nuova sorgente d'acqua, il che sarebbe stato fantastico se la fontana si fosse trovata in un bel parco assolato con l'acqua fresca pompata dall'acquedotto. Ma questo posto è sottoterra da secoli, intervenne Piper. Secco e sepolto. Che fine avranno fatto le ninfe? Il rumore dell'acqua si trasformò in un coro di sibili, simili a serpenti spettrali. La luce che ondeggiava sulle pareti passò dall'azzurro e verde mare a un color viola e verde acido. Sopra i semidei le nove nicchie scintillarono. Non erano più vuote. In ognuna c'era una vecchia donna avvizzita, così inaridite fragile che a Piper vennero in mente le mummie, con la differenza che di solito le mummie non si muovono. Avevano occhi viola, come se l'acqua limpida che era loro fonte di vita si fosse condensata e rappresa al loro interno. Le eleganti vesti di seta erano ridotte a brandelli e sbiadite. I capelli, che un tempo erano raccolti all'indietro con i boccoli ornati di gioielli alla maniera delle nobildonne romane, erano scarmigliati e secchi come paglia. «Se i cannibali d'acqua esistessero davvero, avrebbero questo aspetto», pensò Piper. «Che fine avranno fatto le ninfe», ripeté la creatura nella nicchia al centro. Era perfino più mal ridotta delle altre. Aveva la schiena curva come la maniglia di una caraffa. Le mani scheletriche erano rivestite di uno strato di pelle sottilissima. Sulla testa, una ghirlanda malconcia di alloro dorato scintillava tra i radi capelli, che somigliavano ai peli della carcassa di un animale investito per strada. Puntò i suoi occhi viola su Piper. «Che domanda interessante, mia cara! Forse le ninfe sono ancora qui, a soffrire in attesa della loro vendetta!» Alla prima occasione che le fosse capitata, Piper giurò che avrebbe fuso Catoptris e l'avrebbe venduto come metallo di scarto. Quello stupido pugnale non le mostrava mai tutta la storia. Certo, aveva visto che affogava. Però, se avesse capito che nove ninfe zombie rinsecchite l'aspettavano, non sarebbe mai scesa laggiù. Prese in considerazione l'idea di lanciarsi verso le scale, ma quando si girò, la porta era scomparsa. Naturalmente, c'era soltanto una parete vuota. Piper sospettò che non fosse solo un'illusione. E poi non ce l'avrebbe mai fatta raggiungere la parte opposta della sala prima che le ninfe zombie attaccassero. Jason e Persi erano al suo fianco, con le spade sguainate. Piper era felice di averli vicino, ma sospettava che le loro armi non sarebbero servite a nulla. Aveva visto quello che sarebbe accaduto nella stanza. In un modo o nell'altro, quelle creature li avrebbero sconfitti. «Chi sei tu?» domandò Jason. La ninfa al centro girò la testa. «Ah, i nomi! Un tempo avevamo un nome. Io ero Agno, la prima delle nove!» «Nove?» ripete Jason. «Ci sono sempre state nove nicchie.» «Certo!» Agno mostrò i denti in un sorriso malvagio. «Noi siamo le nove ninfe originali, Jason Grace. Quelle che hanno assistito alla nascita di tuo padre.» La spada di Jason si abbassò. «Giove? Eravate lì quando è nato?» «Zeus», come lo chiamavano all'epoca, replicò Agno. «Era un moccioso che strillava come un forse è nato. Abbiamo assistito Rea durante il travaglio. Quando il piccolo è arrivato, lo abbiamo nascosto affinché suo padre Crono non lo divorasse. Ah, che polmoni aveva! Abbiamo fatto tutto il possibile per coprire quel chiasso, in modo che Crono non lo trovasse. Quando Zeus è cresciuto, ci sono stati promessi onori eterni. Ma tutto questo accadeva nell'antica patria, in Grecia. Le altre ninfe gemettero e graffiarono le nicchie. «Sembravano intrappolate», realizzò Piper, «come se avessero i piedi incollati alla pietra insieme alle conchiglie che le decoravano.» «Quando Roma ha preso il potere, siamo state invitate qui», continuò Agno. «Un figlio di Giove ci ha tentato offrendoci doni.» «Una nuova casa, più grande e più bella, ci ha promesso.» «Nessuna caparra? Un vicinato fantastico.» «Roma durerà per sempre.» «Per sempre», sibilarono le altre. «Abbiamo ceduto alla tentazione», concluse Agno. «Abbiamo abbandonato le nostre semplici fonti esorgenti sul Monte Liceo e ci siamo trasferite qui.» «Per secoli la nostra vita è stata meravigliosa. Feste, sacrifici in nostro onore, abiti e gioielli nuovi ogni settimana.» «Tutti i semi dei di Roma flirtavano con noi e ci onoravano.» Le ninfe gemettero e sospirarono. «Roma però non è durata per sempre», ringhiò Agno. «Gli acquedotti sono stati deviati. La villa del nostro padrone è stata abbandonata e demolita. Noi siamo state dimenticate e sepolte sottoterra, ma non potevamo andarcene.» «La nostra fonte di vita era collegata a questo luogo.» «Il nostro vecchio padrone non ha mai ritenuto opportuno lasciarci andare.» «Per secoli siamo appassite qua nell'oscurità.» «E abbiamo sete.» «Molta sete.» Le altre si graffiarono la bocca. «Mi dispiace per voi», disse Piper, tentando di usare la lingua magliatrice. «Deve essere stato terribile. Ma noi non siamo vostri nemici. Se possiamo aiutarvi...» «Ah, che voce soave!», gridò Agno. «Che bei lineamenti!» «Anch'io sono stata giovane come te. La mia voce era rasserenante come un ruscello di montagna.» «Ma sai cosa succede alla mente di una ninfa quando viene intrappolata al buio? Senza niente di cui cibarsi tranne l'odio? Senza niente da bere tranne pensieri di violenza?» «Sì, mia cara, tu puoi aiutarci.» Persi sollevò una mano. «Ehm, io sono figlio di Poseidone. Forse posso evocare una nuova sorgente d'acqua.» «Ah!», sbottò Agno, e le altre ottoninfe riecheggiarono. «Ah! Ah!» «Certo, figlio di Poseidone», disse Agno. «Conosco bene tuo padre.» «E Fialte e Otto mi avevano promesso che saresti venuto.» Piper appoggiò una mano sul braccio di Jason per non perdere l'equilibrio. «Lavorate per i giganti?» «Sono i nostri vicini.» Agno sorrise. «I loro appartamenti si trovano al di là di questa stanza, dove l'acqua è stata deviata per i giochi. Quando ci saremo occupate di voi? Quando ci avrete aiutato? I gemelli ci hanno promesso che non soffriremo mai più.» La ninfa si rivolse a Jason. «Tu, figlio di Diove, pagherai per l'orribile tradimento del tuo predecessore che ci ha condotte qui.» «Conosco i poteri del Dio del cielo. L'ho allevato quando era bambino.» «Un tempo, noi ninfe controllavamo la pioggia sopra i nostri pozzi e le nostre sorgenti.» «Quando avrò finito con te, avremo di nuovo quel potere.» «E tu, Percy Jackson, figlio del Dio del mare.» «Da te prenderemo l'acqua, una riserva d'acqua infinita.» «Infinita?» Percy spostò rapidamente gli occhi da una ninfa all'altra. «Ehm, sentite, non sarà infinita. Ma forse potrei mettervene da parte qualche litro.» «E tu, Piper McLean, figlia di Afrodite.» Gli occhi viola di agno scintillarono. «Sei così giovane, così carina e dotata di una voce così dolce.» «Da te prenderemo la bellezza.» «Abbiamo risparmiato le nostre ultime forze vitali per questo giorno.» «Abbiamo molta sete.» «E con voi tre ci disseteremo.» «Tutte e nove le nicchie brillarono.» «Le ninfe scomparvero e dalle nicchie sgorgò l'acqua.» «Scura, nauseabonda.» «Simile a petrolio.» «Comparativo.» «iemильно.» «Tutto e ambito.» «Now ho a